Dal 1 gennaio al 30 luglio 2024 in Puglia sono andati letteralmente in fumo 2.207 ettari di terreno. A fornire questa triste cifra è la Col di Retti Puglia basandosi sui dati forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Tra le regioni più colpite oltre la Puglia ci sono la Sicilia, la Calabria e la Sardegna. Insieme fanno l'85% delle aree totali bruciate su scala nazionale. Ogni rogo, stima la Col di Retti regionale, pesa sulle tasche dei cittadini per oltre 10.000 euro all'ettaro considerando le spese per lo spegnimento, la bonifica e quelle sulla ricostruzione dei sistemi ambientali ed economici delle aree devastate. Tra le cause, le temperature record e la mancanza di piogge, a queste purtroppo si aggiunge anche la mano dell'uomo. Tra i consigli elaborati da Col di Retti, la prima regola da seguire nel bosco è quella di evitare di accendere fuochi all'interno e in prossimità, soprattutto nelle campagne non gettare mai mozziconi, non abbandonare mai rifiuti. Nel caso in cui venga avvistato un incendio, consiglia la Col di Retti informare tempestivamente le autorità responsabili contro i piromani, proprio per garantire una funzione di controllo conclude l'ente regionale, è importante valorizzare il ruolo di sentinelle del territorio svolto dalle imprese agricole, dando loro un giusto riconoscimento.